Buongiorno, buon sabato mattina a tutti voi. Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Mattino 6, l'ultimo della settimana che apre il weekend, un weekend segnato tragicamente da quanto accaduto ieri sera e ieri notte in Francia, in particolare a Parigi con gli attentati che hanno veramente sconvolto la capitale francese, un po' tutta Europa, tanto da far parlare di un 11 settembre francese ed europeo. E proprio andiamo adesso sui giornali, partiamo dai quotidiani regionali, partiamo dal centro che apre proprio con la notizia della strage di Parigi. Parigi sotto attacco, 60 morti, strage durante la partita Francia-Germania, decine di feriti, oltre 100 gli ostaggi. Hollande portato via, ucciso uno degli attentatori, l'assalto al grido alla E-Grande. E' dunque questa la fotografia drammatica di quanto accaduto nella notte a Parigi. Stato di emergenza, la Francia chiude subito le frontiere, il Viminale, in Italia alzati tutti i livelli di sicurezza. Poi si ricorda la strage non molto tempo fa di Charlie Hebdo, scia di sangue dopo la strage dei fumettisti, ancora una volta a Parigi sotto attacco, sotto attacco in particolare degli ISIS e dei fondamentalisti islamici. Infatti c'è stata la rivendicazione, ovviamente andrà approfondito e confermato quanto scritto e apparso su internet, ma l'ISIS ha rivendicato questi attacchi che sicuramente hanno matrice terroristica e sicuramente sono stati coordinati perché sono stati ben sei nella capitale francese. Ci torneremo più avanti su questo argomento leggendo anche i quotidiani nazionali. Intanto torniamo nella nostra regione con un'altra notizia di cronaca. muore a 51 anni sulla riviera, Pescara giardiniere stroncato da un infarto mentre va al lavoro. E poi a Collecorvino due ostionati per le caldaie. A Pescara l'Agbe dice attenti ai falsi volontari. E poi a Montesilvano in palestra spunta Fabrizio Corona. Per lo sport domani in panchina Pescara Oddo punisce Valoti. Nel taglio basso il Buongiorno Abruzzo di Andrea Mori. Le fatture in sospeso del Volo Blu Fininvest. Questo è il titolo del Buongiorno Abruzzo. Andiamo avanti con la lettura del centro. Le prime pagine, almeno per quanto riguarda l'apertura, sono praticamente identiche. Quelle delle altre edizioni provinciali del centro. Però andiamole a vedere comunque insieme perché i richiami dalla regione ovviamente sono diversi a seconda della provincia che si va a leggere. Noi adesso andiamo sull'edizione teatina. Uccisa in casa dall'emorragia a Cupello. La vittima è una donna di 36 anni trovato il foro di un ago. Una donna, come detto, 36enne è stata trovata senza vita ieri nel tardo pomeriggio nella sua abitazione di Cupello. La causa è un'emorragia esclusa. La morte è violenta. Sul corpo è stato scoperto un foro di siringa. Era la prima ipotesi che era circolata subito dopo il ritrovamento del corpo. Torniamo sul giornale. Appello maltempo. Il prefetto di Chieti e i sindaci siate pronti all'emergenza. Poi tensione ad attessa, onda. I lavoratori sono in stato di agitazione. A Chieti accusa gli stranieri, mi hanno bruciato l'auto e poi invasto, tradito dal cappuccio, rapinatore, finisce nella rete. Andiamo ancora avanti. Adesso andremo a vedere insieme la prima pagina dell'edizione provinciale di Etteramo. Andiamola ad aprire insieme. Eccola qui, possiamo osservarla. Ronde antiladri dei cittadini isola. La popolazione si mobilita dopo un'ondata di furti. E poi è la seconda volta. Ad Alba va rincendiato sulla bonifica del Tronto. Poi in Teramo, in un market di Morro, pistola in pugno rapina a 400 euro. C'è poi il contenzioso ditta fa pignorare i mezzi del comune e ancora dello sport. Oggi c'è il derby di Lega Pro fra l'Aquila e Teramo. Il Teramo all'Aquila vuole la vittoria. Andiamo dunque a vedere l'ultima delle quattro prime pagine provinciali del centro. E ovviamente ci riferiamo alla edizione della provincia aquilana e del capoluogo di regione. Prima pagina in postazione sempre la stessa. Andiamo a vedere i richiami dalla regione. Banca dati contro il malaffare. L'Aquila così la procura investiga sugli appalti per la ricostruzione con un nuovo strumento per controllare appunto quanto legato al post terremoto. Il prefetto accusa ci sono persone che delinquono per pochi spiccioli. E poi l'Aquila-Pirozzolo stop alla sospensione sempre per quanto riguarda le inchieste che coinvolgono il capoluogo di regione. E poi a Sulmona traffico di armi le accuse a Pardi. Ad Avezzano stella d'oro rubata al regbista eroe. E poi nello sport come detto il derby l'Aquila-Teramo. Derby di paura così lo definisce il centro nella pagina aquilana. Cambiamo testata adesso. Passiamo al messaggero. Andiamo a vedere anche la prima pagina del messaggero Abruzzo. Pescara testa nei guai questa l'apertura scelta dal messaggero Truffa e Bancarotta verso il processo l'ex presidente della provincia di Pescara. Con lui altri 22 indagati nell'inchiesta sulle aziende del gruppo De Nicola. E poi a Cupello una donna di 36 anni è stata trovata morta per una emorragia fatale. Ma è giallo così scrive Gianni Quagliarella sul messaggero. E poi guerriero terrorismo. L'Abruzzo non è immune. È una notizia di ieri prima che accadessero i fatti di Parigi. Ma è tornato ovviamente di straordinaria attualità. Proprio dopo la notte appena trascorsa. L'Abruzzo non è immune dal fenomeno terrorismo eversivo. Hanno destato clamore le parole del procuratore di Teramo Antonio Guerriero. Scendiamo adesso a centropagina. L'Aquila in corte d'appello. Venerdì ci sarà la sentenza per quanto riguarda il processo Sanitopoli. Sulle mazzette l'ultimo scontro è proprio nell'aula aquilana. Diamo di spalla. Regione Noa la Snamma. Decidere sarà Renzi. Ieri il confronto a Palazzo Chigi e Mazzocca Bacchetta. Il centrodestra sul parco dei Trabocchi. Andiamo a vedere anche quest'altra notizia di cronaca. L'incidente ustionati da una fiamma mentre lavoravano sulle caldaie. È successo a Colle Corvino. Andiamo a vedere anche sotto la testata. Il giorno e la notte. Montesilvano le spose in passerella con Giosquillo. E poi calcio di Lega Pro. Derby l'Aquila Teramo che nessuno può sbagliare. E poi l'Aquila Alecci. Parte di questa comunità è coinvolta in reati infimi. Così il prefetto Aquilano che sembra in qualche modo prendere atto della situazione che si sta verificando nel capologo di regione abruzzese. Adesso cambiamo ancora una volta testata e passiamo alla città. Il quotidiano della provincia di Teramo. Titolo di apertura ad Alfonso. Ordina un'indagine interna. Presunti appalti pilotati. Chiesto un elenco delle opere dei tecnici prima di andare in procura. A centro pagina. Attentato al bar. Questa la fotonotizia contro guerra fiamme dolose lungo la bonifica del Tronto. E poi vuole pignorare le auto dei vigili. Imprenditore mai pagato. Avanza la richiesta. Impossibile. Di spalla Giulianova. Il PD non vuole la caserma nell'ex mercato. A Roseto degli Abruzzi. Altre analisi nella scuola della puzza. E poi la promessa prefettizia. Bande di ladri in montagna. Ci saranno più controlli. Nel taglio basso altri. Claudio Acquaviva. Il gesuita globale. 400 anni dopo per quanto riguarda la cultura. Mentre sotto la testata troviamo il calcio di Lega Pro. Oggi la sfida fra l'Aquila e Teramo conta solo il risultato per entrambe le formazioni. E c'è il punto sul Teramo di Federico De Carolis. Per Teramo non è un derby. Questa è la posizione che si esprime già dal titolo abbastanza chiaramente di Federico De Carolis. Adesso apriamo come detto all'inizio una pagina ampia dedicata alla rassegna nazionale ed internazionale. Dunque andiamo sul Corriere della Sera. La guerra a Parigi. 13 novembre 2015. Notte di attacchi continui. Decine di morti. 60, scusate, centinaia di ostaggi ed esecuzioni. Terrore nello stadio, a teatro, nelle strade, città nel panico, chiuse le frontiere. Questo insomma è il sunto che fa il Corriere della Sera di quanto accaduto ieri. Vi ricordo che allo Stade France, nel quartiere di Saint-Denis, si stava giocando la partita Francia-Germania. Partita amichevole. Tra l'altro proprio nel ritiro tedesco c'erano stati dei falsi allarmi bomba. Ieri insomma erano circolati diversi allarmi bomba a Parigi. Durante la partita il presidente Hollande è stato fatto evacuare dalle forze speciali francesi. Insomma anche questo testimonia quanto sia grave la situazione a Parigi. Andiamo avanti. La Repubblica attacco al cuore d'Europa. Attentati islamici a Parigi, decine di morti ed ostaggi, kamikaze allo stadio, mattanza nel teatro Bataclan. Sparavano e ricaricavano inneggiando ad Allah. Paese in stato di emergenza, Hollande chiude le frontiere allarme. Da Roma a Londra, infatti nella rivendicazione dell'Isis si citano anche queste altre capitali, tra cui quella italiana, come i prossimi obiettivi dei terroristi. Andiamo ancora avanti. La stampa. Attacco a Parigi, morti e ostaggi. Quattro attentati. Ovviamente i giornali poi vanno in stampa in momenti diversi. Dunque le informazioni sono prese al momento ovviamente della stampa. Strage a un concerto. Decine di persone nelle mani dei terroristi. esplosioni allo stadio durante Francia-Germania. Sessanta le vittime sparavano ed inneggiavano ad Allah. Hollande chiude le frontiere. Gli attacchi principali ci sono stati nei due quartieri, il decimo e l'undicesimo, che in Francia si chiamano Arndissement, e soprattutto all'interno di un locale notturno, il Bataclan, dove c'era un concerto di un gruppo musicale californiano. I terroristi sono entrati e hanno preso in ostaggio le persone che erano all'interno del locale. E poi scendiamo anche nel taglio basso della pagina per vedere qualche altra notizia. Mattarella, grazie all'imprenditore che uccise un ladro in giardino, pena ridotta di due anni l'uomo, ora in carcere, andrà ai servizi. Ma il Quirinale non sposa l'autodifesa, così la stampa. Andiamo avanti. Il sole 24 ore. Inferno, ISIS a Parigi, 158 morti, 7 attentati e strage di ostaggi, terrore allo stadio e in teatro Holland, stato d'emergenza, chiuse frontiere, scuole e musei. L'11 settembre d'Europa, come vi ho detto io in precedenza, terroristi in azione ieri sera con mitra e bombe al grido, all'Ai Grande e blitz notturno nella sala concerti Bataclan per liberare gli ostaggi sopravvissuti. Obama dice attacco all'umanità, l'ISIS sconvolge l'agenda del G20. Non dimenticate questo giorno, dicono i terroristi, come gli americani per l'11 settembre. In Italia c'è massima allerta, sono state mobilitate le forze speciali. Il presidente Mattarella ha detto ferita al cuore della libertà, Renzi intanto riunisce il comitato di sicurezza. Andiamo avanti. Il messaggero, massacro islamico, Parigi sconvolta da sette attacchi del comando ISIS in simultanea, colpi di Kalashnikov ed esplosivi, 158 le vittime, cartineficina di ostaggi in un teatro, Hollande chiude le frontiere. È stato di emergenza. Andiamo ancora avanti. Il giornale, orrore islamico, assalto a Parigi, terroristi colpiscono in contemporanea, in diverse zone, prima di uccidere, gridavano Allah è grande. Questo insomma è quello che ha colpito un po' tutti i giornali. Scendiamo ancora a caccia all'aggressore. Per quanto riguarda invece le cronache italiane, Milano volevano sgozzare l'ebreo. Indagine a tutto campo, la comunità in questa città. C'è un brutto clima, ma anche questi episodi si iscrivono insomma nel clima generale di tensione provocato anche dagli attacchi terroristici. Libero, bastardi islamici, dunque usa parole forti, libero, sei azioni simultanee in zone diverse della città, sono tantissimi i morti e i feriti. ovviamente c'è anche la notizia che vi ho detto degli ostaggi che erano stati chiusi all'interno del locale notturno Bataclan. Insomma, un clima davvero di guerra a Parigi ieri sera. Il tempo, a lutto, scrive Je suis Paris, ricordando anche il famoso motto nato dopo la strage a Charlie Hebdo che diceva Je suis Charlie, dunque si richiama, insomma, c'è un filo purtroppo di sangue che conduce dalla strage di Charlie Hebdo a quella di ieri sera a Parigi, la mattanza di Parigi con gli attacchi terroristici. Andiamo ancora avanti. Il mattino, l'orrore dei nemici dell'uomo, la guerra dell'Isis a Parigi, una carneficina anche all'interno del teatro preso come, diciamo, rifugio da parte dei terroristi. A centropagina una notizia di carattere diverso, Bagnoli e Terra dei Fuochi arrivano i fondi, questo per quanto riguarda la campagna. Andiamo su Avvenire, Parigi sotto attacco del terrore, ultima ora, azioni multiple nella notte, gli attentatori gridavano all'Ae Grande, il presidente Hollande prelevato d'urgenza allo stadio, come vi ho detto in precedenza, domani i morti, scusate, dove i morti sarebbero almeno 40, ovviamente, questi sono tutti i conteggi fatti al momento della stampa del giornale, in Italia subito innalzate tutte le misure di sicurezza per quanto riguarda appunto il terrorismo, anche perché a Roma fra pochissimo scatterà il giubileo straordinario voluto da Papa Francesco e dunque già soltanto per questo motivo l'allerta era stata alzata, lo Stato italiano si stava preparando insomma a fronteggiare anche le minacce terroristiche e ovviamente dopo i fatti di Parigi l'attenzione sarà ancora più elevata l'unità assalto al cuore dell'Europa notte di terrore a Parigi e poi l'altra notizia terra dei fuochi inizia la bonifica 450 milioni per il risanamento Renzi De Luca governi l'emergenza Campania parte la rinascita di Bagnoli ecco la legge che mette al bando il caporalato andiamo sul manifesto e qui diciamo sia sul manifesto che sul fatto quotidiano troveremo aperture differenti Happy Day questo il titolo sulla fotografia che ritrae Renzi e De Luca nel giorno in cui il governo varia il decreto Happy Days il giubileo per il giubileo e per la regione Campania il presidente del consiglio scende in campo in difesa del governatore De Luca accusato di concussione vincerà la sfida di Bagnoli della terra dei fuochi ha il diritto dovere di governare intanto l'Istat gela gli entusiasmi sulla crescita e poi i kurdi sconfiggono l'Isis a Siniar e puntano a Mosul queste le notizie invece che arrivano dal Medio Oriente andiamo adesso sul fatto quotidiano come detto anche qui apertura differente Mattarella grazie a un assassino a gentile richiesta di Calderoli Antonio Monella condannato a sei anni uccise il ladro che gli rubava il SUV questa la lettura del fatto quotidiano e poi a centropagina ritroviamo l'ultima ora per il momento della stampa del giornale assalto a Parigi Holland fatto evacuare dallo stadio andiamo adesso prima di passare al meteo quindi chiedo alla regia di preparare il collegamento con il nostro esperto Giovanni De Palma di abruzzometeo.org che ovviamente ci darà tutti i riferimenti per quanto riguarda il meteo nel weekend andiamo a vedere anche sui portali online di repubblica.it del Corriere gli ultimi aggiornamenti per quanto riguarda la strage a Parigi Parigi torna sotto attacco il sito sta ovviamente ricaricando perché ci sono gli aggiornamenti costanti Parigi torna sotto attacco spari e kamikaze sulla gente sette gli attentati colpiti teatro ristoranti stadio almeno 126 morti è una conta ancora approssimativa Hollande Francia in stato di emergenza dice li staneremo blitz poi ostaggi liberi il prefetto uccisi gli otto terroristi massacro al Bataclan l'Isis rivendica come detto minacce anche all'Italia il Vaticano dice serve una reazione e poi un testimone racconta sparavano inneggiando ad Allah e ovviamente c'è poi come detto il richiamo alla strage di Charlie Hebdo un anno di sangue per la capitale parigina e allora andiamo adesso anche sul Corriere della Sera diamo tempo al sito internet di caricare anche qui gli ultimi aggiornamenti per quello che concerne il sito il corriere.it Parigi 126 morti terroristi sono stati uccisi dalle forze speciali francesi ecco che si sta ricaricando ancora una volta il sito la Francia in stato di emergenza terrore allo stadio per lo scoppio di alcuni ordigni brucia la capitale 7 gli attacchi in simultanea cadaveri nelle stradi esplosioni vicino allo Stade France dove si stava giocando Francia Germania 8 gli assalitori uccisi dalle forze speciali francesi l'Isis rivendica sul web una vendetta per la Siria ora tocca a Londra Washington e Roma come ho avuto modo già di raccontarvi in precedenza la carneficina al concerto Roccal Bataclan gli ostaggi nelle mani dei terroristi e poi c'è stata anche l'irruzione all'interno del locale da parte delle teste di cuoio le reazioni Obama un tentativo oltraggioso di terrorizzare i civili Hollande la nostra risposta sarà implacabile Francia e Stati Uniti avanti insieme contro il terrorismo durante Francia Germania i kamikaze lo scoppio la fuga Hollande impietrito in tribuna la morte arriva anche in una partita di calcio e poi le testimonianze dispari e le urla lai grande ci giustiziano ad uno ad uno queste le testimonianze dall'interno del teatro Bataclan dove appunto si è consumata un'altra carneficina oltre 100 i morti vittime quasi tutti ragazzi andiamo chiedo un attimo di pazienza a Giovanni De Palma andiamo a vedere anche sui quotidiani sportivi italiani perché ovviamente la strage di ieri ha toccato anche lo sport come abbiamo potuto vedere in precedenza e allora andiamo sulla gazzetta dello sport strage a Parigi terrore allo stadio 13 novembre 2015 attacco terroristico alla Francia diamo rapidamente strage a Parigi serie di attentati Alfano dichiara lo stato d'allarme per quanto riguarda l'Italia e poi terrore allo stadio su tutto sport Parigi attentati con decine di morti e poi c'è la notizia che ovviamente passa in secondo piano della vittoria dell'Italia sul Belgio ieri durante l'amichevole allora andiamo al meteo adesso e do il buongiorno a Giovanni De Palma di abruzzometeo.org buongiorno Alfredo buongiorno a te e a tutti i telespettatori allora Giovanni che tempo faranno il weekend a te? sì effettivamente non è facile parlare di previsioni dopo quanto accaduto queste tristi notizie insomma che vanno ovviamente al di là ovviamente della diciamo della della umana insomma come si può dire una situazione che effettivamente mette tanta tristezza e massima vicinanza e solidarietà al popolo francese insomma detto ciò diciamo che la situazione meteorologica attuale continua a essere caratterizzata credo dalla presenza di un'area di alta pressione che come avevamo annunciato nei giorni scorsi ha iniziato ad attenuarsi soprattutto sulle regioni centro-settentrionali dove comunque iniziano a passare dei sistemi nuvolosi che favoriranno degli annuvolamenti si tratterà di corpi nuvolosi che non produrranno dei fenomeni solo degli annuvolamenti e nelle prossime ore comunque insisteranno dei banchi di nebbia soprattutto sulle zone collinari e sul versante orientale della nostra regione in particolar modo diciamo nelle province del Pescarese del Terramano ma localmente nelle valli interne dell'Aquilano soprattutto durante le ore più fredde della giornata annuvolamenti che potrebbero occasionalmente darlo a delle piovigini soprattutto sulle zone alto-collinari non cambierà di molto la situazione nei prossimi giorni l'alta pressione continuerà a proteggerci però non sarà più la forte struttura di alta pressione che ci ha interessato nei giorni scorsi le temperature sono previste in diminuzione soprattutto sulle zone collinari e montuose ma un deciso cambiamento delle condizioni atmosferiche sembra possibile a partire dalla terza decada del mese perché l'area di alta pressione si ritirerà e masse d'aria fredda inizieranno a spingersi da prima verso le isole britanniche successivamente verso l'Europa centrale e se la situazione sarà confermata l'aria fredda potrebbe riversarsi sul Mediterraneo e interessare la nostra penisola a partire ripeto nel corso della terza decada del mese potremmo avere una intensa fase di maltempo ma fino a sabato prossimo non si prevedono sostanziali variazioni più annuvolamenti ripeto banchi di nebbia e temperature ancora al di sopra delle mese stagionali al freddo grazie Giovanni ti ringrazio chiudiamo qui questa breve parentesi del meteo che vorrei dare ancora qualche aggiornamento per quanto riguarda la situazione in Francia ti ringrazio ancora per essere stato con noi ti auguro un buon weekend grazie Alfredo un buon fine settimana a te e a tutti i telespettatori di tv6 andiamo andiamo avanti torniamo sul nostro ipad torniamo sul web andiamo sul sito di Le Figaro il bilancio alle 6 e 58 insomma a 7 ore dalla 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 strage è di 120 morti e 200 feriti insomma vedete la foto è abbastanza eloquente non c'è bisogno che io la commenti oltre andiamo sulla home page ritroviamo insomma l'esterno del Bataclan il sito commenta attacchi terroristici la guerra in piena Parigi nel centro di Parigi insomma veramente ieri sera è arrivata la guerra in Europa veramente ieri sera è arrivata la guerra al centro di Parigi noi ci fermiamo adesso per il break pubblicitario poi torniamo con la seconda parte di mattino 6 dove andremo ad approfondire anche le notizie dalla nostra regione tra poco bentornati su tv6 bentornati su mattino 6 ripartiamo con la nostra rassegna stampa tornando alla nostra regione e tornando sul messaggero questa la pagina Abruzzo che possiamo osservare insieme Sanitopoli e scontro prima della sentenza sui soldi delle mazzette si parla ovviamente del processo in corte d'appello per il PG Picardi i riscontri patrimoniali non ci sono ma l'accusa regge la difesa di Del Turco dice evidenza accecante non può essere superata dunque questo un po' il racconto di quanto sta accadendo nel processo d'appello per quanto riguarda Sanitopoli processo che coinvolge tanti imputati tra cui l'ex presidente della regione Abruzzo Ottaviano Del Turco accusato di aver preso mazzette per insomma agevolare alcuni imprenditori della sanità in particolare per aver agevolato Vincenzo Angelini che poi è stato anche il suo grande accusatore e il super test della procura di Pescara andiamo adesso invece a parlare di economia Confindustria l'Abruzzo cresce piano diminuisce la domanda di brevetti questo emerge dal report semestrale sull'industria abruzzese presentato ieri da Confindustria il presidente Ballone dice creare un ambiente favorevole al business Paolucci l'assessore al bilancio della regione la sfida dice sono le riforme nel taglio basso il referendum dei lavoratori della TUA che dicono sì al nuovo contratto di secondo livello parere favorevole del 64,4% dei votanti Rolandi della Filt CGL dice garantiti posti e stipendi da Alessandro il consigliere delegato bella vittoria così ha commentato andiamo adesso sul centro e andiamo a vedere un'altra notizia che riguarda invece la politica domani Salvini sarà in Abruzzo e arriva pensando alle elezioni a Montesilvano il comizio e poi il convegno di economia con Bagnai il coordinatore del movimento noi con Salvini richieste di iscrizione anche da qualche forzista e poi esposto anonimo e reazioni smentito il corvo la gara non va all'impresa indicata l'appalto da 3,5 milioni di euro dell'impianto fognario Ovindoli Celano Avezzano è stato assegnato a un'impresa marsicana non all'azienda Ricci di Castel di Sangro del presidente Ance regionale Enrico Ricci che tra l'altro non risulta neanche aver partecipato alla gara Renzi decide anche sulla centrale SNAM dopo Ombrina e il parco della costa Teatina i funzionari rimettono nelle mani del presidente del consiglio il progetto di Sulmona noi ieri su questo argomento e sul no della regione detto proprio a questo progetto abbiamo ascoltato con Francesca Romana Testi il sottosegretario della presidenza della regione Abruzzo Mazzocca ascoltiamolo Una centrale di compressione gas a Sulmona l'Abruzzo oggi a Roma ha presentato e ripetuto il suo diniego alla realizzazione presso la presidenza del consiglio dei ministri contando che si tratta di un territorio sismico Noi abbiamo dato attraverso tre deliberazioni di giunta regionale fino a settembre scorso il diniego all'intesa come è previsto per legge per tutta una serie di motivazioni per la problematicità del territorio in cui deve insediarsi ovvero la valle Peligna ad alta sismicità dalle valenze ambientali e paesaggistiche non indifferenti a ridosso del parco della sua tramella della badia morronese insomma per tutta una serie di motivazioni anche per il modello di sviluppo che quel territorio vuole darsi improntato alla valorizzazione delle emergenze culturali e architettoniche che vi sono presenti da secoli a questo punto la palla passa alla presidenza dei consigli dei ministri che dice la legge sentito il presidente della regione decide se sì o se no cioè se autorizzare definitivamente o meno e se la autorizza definitivamente sarà una centrale di compressione alimentata a gas quindi con emissioni di atmosfere e quant'altro su cui ripeto la regione di Abruzzo prima del 2011 non si è espressa tempi stretti per l'Abruzzo che ha espresso questa volontà solo in ultima battuta a luglio la prima volta come sottolinea il sottosegretario alla presidenza della regione Mario Mazzocca ora resta solo da attendere la decisione del consiglio dei ministri aggiungo la regione non ha dato nessun parere al suo tempo ecco perché adesso vedere una risoluzione presentata da membri del centro del est che comunque erano governo fino al 2014 fino a giugno 2014 e quando allora si aveva tutta la possibilità di esprimere il proprio dissenso ecco non la vedo una nota suonata per usare un eufemismo e dunque torniamo sul giornale andiamo sulla pagina di Pescara cambiamo argomento l'altra faccia della beneficenza occhio a chi date i soldi le truffe dei falsi volontari parenti presidente dell'Agbe denuncia danneggiati dagli impostori che speculano sui malati parte la campagna tra i negozianti controlli sui documenti di chi cerca i fondi e ieri c'è stata insomma la presentazione di questa nuova campagna andiamo a vedere insieme il servizio in Abruzzo tantissime sono le segnalazioni di volontari presenti anche per brevi periodi di tempo all'interno di centri commerciali o fuori dai supermercati spesso questi volontari generalmente provenienti da fuori regione dopo aver richiesto denaro non sanno motivare il loro utilizzo argomentando in maniera vaga e non circostanziata la scusa di bambini malati in ospedale e adducendo in molti casi patologie gravi come la leucemia o tumori di vario genere le segnalazioni hanno raggiunto l'Agbe l'associazione che da 16 anni si occupa di bambini affetti da leucemia e tumori solidi offrendo alloggio e servizi alle famiglie che oggi esprime il desiderio di mettere in chiaro alcuni punti per rendere più semplice alle persone il confronto con questi pseudo volontari riceviamo telefonate ma ne riceviamo diverse anche di domenica telefonano amici o nostri volontari dicono guarda Massimo che c'è una pseudo associazione in questo iper che sta chiedendo i soldi per i bambini malati di leucemia o c'è questa associazione di clown che sta chiedendo i soldi per i bambini la fortuna è che a volte intervenendo i carabinieri o le forze dell'ordine riescono quantomeno a far capire che forse è il caso di smetterla purtroppo le leggi che ci sono non contemplano nulla tutti sono liberi di chiedere fondi a sostenere la causa dell'Agbe si sono unite anche associazioni di categoria come confesercenti e CNA cercando di diffondere anche verso gli esercenti la consapevolezza del fenomeno e offrendo alcuni dettagli per non finire nella rete delle truffe le associazioni di volontariato quelle che sviluppano progetti seri non chiedono soldi nei parcheggi dei centri commerciali non chiedono soldi con il porta a porta non vanno a cercare i 5 euro per acquistare l'ambulanza a casa delle persone e non si presentano senza realmente un identificativo un testerino reale una divisa addosso che sia anche una t-shirt di un'associazione ma quello che vogliamo dire a chi fa beneficenza innanzitutto non fermatevi a farla ma soprattutto fatela cominciando a fare una piccola ricerca sulle attività che svolgono delle associazioni noi riteniamo che e faremo la nostra parte bisogna sensibilizzare il mondo di chi svolge le attività economiche che sono ogni giorno punto di riferimento anche delle associazioni di volontariato per la richiesta di fondi in modo tale da cercare di veicolare il più possibile le poche risorse che hanno a disposizione i nostri soci i nostri associati a progetti che avranno effettivamente hanno la loro valenza e potranno portare al raggiungimento di obiettivi precisi andiamo avanti e continuiamo con la lettura del centro giardiniere di De Cecco muore mentre va a lavoro ieri tragedia sul lungomare nord muore Emilio di Pietrantonio 51 anni si è sentito male in auto è sceso e poi si è accasciato a terra oggi ci saranno i funerali a letto manoppello un'altra notizia di cronaca tre anni fa l'omicidio bucco tracce di lana del killer su un dito della vittima l'avvocato della sorella si oppone alla richiesta di archiviazione da parte della procura e del pubblico ministero Gennaro Varone nell'articolo ci sono i motivi dell'opposizione vanno verificate le immagini delle videocamere per cercare un uomo o una donna che quel giorno indossava una maglia della stessa tinta delle tracce di lana trovate i vicini di due condomini di via Leopardi non sono mai stati sentiti ma è possibile che abbiano ascoltato qualcosa tra le 14.45 e le 15.30 e dunque la famiglia cerca di sperare e continuare la sua battaglia per avere giustizia l'aggressione al terminal andiamo avanti offre corso di autodifesa al 15enne rapinato sul bus il maestro di pugilato Labrozzi un mese di lezioni gratis per riacquistare sicurezza imparare le nozioni di base può essere utile a gestire situazioni pericolose andiamo avanti il nuovo stadio divide la città l'opera da 40 milioni di euro ingegneri e costruttori favorevoli al progetto presentato dal Pescara Calcio gli architetti e il coni sono critici per quanto riguarda lo stadio e poi troverete anche tutti i vari pareri restiamo ancora a Pescara Violenta Elite nel locale Zubar stop al circolo via Salaravecchia sospesa per 15 giorni la somministrazione di cibi e bevande il provvedimento del questore dopo che un giovane è rimasto ferito in una zuffa il locale c'è da dire non è nuovo a fatti di cronaca e poi sospiri tempo finito a rischio revoca i fondi per il porto se non si attuerà il piano regolatore portuale ieri c'è stata una conferenza stampa proprio di Forza Italia per riferire su questo argomento una notizia di colore curiosa Corona va in palestra con gli amici sorpresa in Sala Pesi l'ex re dei paparazzi a Montesilvano per salutare il falco poi l'allenamento a fisico idea Fusco tornerà presto andiamo andiamo ancora avanti con la lettura del giornale e passiamo alla pagina che riguarda l'area metropolitana il gruppo Luciani perché il PD resta all'opposizione siamo a Francavilla polemica dopo la conferma della candidatura del sindaco uscente i consiglieri di maggioranza chiedono ai dirigenti di partito di fare chiarezza a San Giovanni Tiatino Dragonara secondo furto in un anno all'Ipercina e poi a Francavilla per quanto riguarda sempre Francavilla un giovane francavillese vince 55 mila euro scusate ad affari tuoi andiamo avanti Montesilvano risarcimenti facili di Mattia non ci sta Maragno si dimetta l'ex sindaco si chiama fuori per il danno pagato dal comune al suocero del primo cittadino in carica pagina imbarazzante e poi Madonna della Neve e chiesetta restaurata dopo le frane lavori quasi ultimati in uno dei luoghi culto più antichi della città vettura del comune bloccata e multata con il targa system spoltore il dispositivo scopre che una vecchia auto dei messi municipali era senza revisione pagherà anche il conducente della serie la legge uguale per tutti poi titolare e operai ostionati dalle caldaie e qui siamo ancora alla cronaca dramma con le corvino in un capannone che produce materiale elettrico prognosi di 40 giorni andiamo alla pagina di penne di Popoli dell'Alta Val Pescara punto nascita di penne la chiusura ci sarà tra 15 giorni invece questo pomeriggio alle 15 ci sarà una protesta da parte dei comitati che si oppongono alla chiusura del punto nascita la ASL rinvia la soppressione del reparto dell'ospedale San Massimo in attesa del completamento delle nuove sale parto a Pescara poi città Pene città aperta riformare l'oasi e puntare sul turismo e poi scendiamo a centropagina Manopello ha giudicato l'appalto per i rifiuti il servizio assegnato alla ditta smaltimento sud per 2,8 milioni di euro a tocco da Casauri autocarro finisce demolisce il fontanile piegato e sradicato l'arredo acquistato per 1400 lire nel lontano 84 Castiglione a Casauri una festa castagne olio e vino a Cervarano gran tavolata con salsicce e pane di farro per la festa del novello andiamo sulla pagina di Chieti poi andremo anche sul messaggero mistero a cupello trovata morta in casa per una emorragia Paola Mancinelli aveva 36 anni ha chiesto aiuto al telefono a una familiare fatale un foro da siringa nell'arteria femorale e poi Chieti donna denuncia su facebook auto a fuoco sotto casa sono stati gli stranieri questa la denuncia della donna andiamo a centropagina parliamo della crisi alla onda i sindacati annunciano lo stato di agitazione per quanto riguarda l'azienda che produce ed assembla motociclette a Piazzano da Tessa andiamo a vedere insieme il servizio con le interviste ai sindacalisti noi ci troviamo a conclusione del percorso di riorganizzazione che abbiamo stabilito tre anni fa sottoscrivendo un accordo ministeriale ad oggi due dei tre pezzi più diciamo così quelli più importanti che abbiamo definito cioè che bisognasse ridurre il livello degli occupati che bisognasse raggiungere un pareggio di bilancio e produrre 120.000 moto due dei tre elementi non li abbiamo praticamente quindi questo significa che semplicemente riducendo il numero degli occupati l'azienda non è nelle condizioni di sopravvivere ad oggi non c'è un centesimo di euro di investimento l'azienda non ha previsto alcun rafforzamento del sito di Atessa e manca sostanzialmente un'idea industriale togliere l'SH significa togliere il made in Italy per lo stabilimento di Atessa e parliamo di Honda l'SH è leader nel mercato europeo oggi detiene tutti i primati di vendita ed è un paradosso che delocalizzando i motori togliamo la natura e la qualità del prodotto che abbiamo sempre assicurato come stabilimento di Atessa pertanto rivendichiamo in gran forza che i motori si fanno qui Honda deve continuare a investire come ha fatto di recente con lo stabilimento d'auto che sta in Inghilterra dove hanno già destinato 256 milioni di euro invece ad Atessa sono stati riservati ultimamente circa 800 mila euro per ampliare un po' il capannone e trasformarlo in un magazzino io uso questo brutto termine ma così è restiamo ancora a questo argomento perché c'è un comunicato arrivato in redazione da parte della Honda Italia che in qualche modo vuole smentire quanto detto dai sindacalisti ricordando che ci sono dei piani di investimento che si muovono su tre capitoli l'ottimizzazione dei flussi interni e la realizzazione di un nuovo edificio come abbiamo sentito anche da Manzi per l'immagazzinamento delle parti che sarà inaugurato il mese prossimo l'ammodernamento di tre modelli che saranno aggiornati nel corso del prossimo anno e la sostenibilità energetica a lungo termine la Honda Italia leggiamo sempre dal comunicato è fortemente radicata nel territorio abruzzese nel 2016 festeggerà i 45 anni di attività oggi più che mai scrive l'azienda ogni decisione volta lo sviluppo delle proprie persone alla crescita delle attività produttive staremo a vedere cosa accadrà per questa vertenza torniamo sui nostri giornali torniamo sul messaggero la pagina aquilana parte della comunità aquilana in marcia questo il titolo che apre la pagina la città capitale per un giorno dell'antimafia con un'intesa preseduta dal procuratore nazionale della distrettuale antimafia Roberti presentate due iniziative di valenza nazionale un attinente le indagini post sisma e l'altro un protocollo contro il terrorismo durissimo il jacuzzo del prefetto Francesco Alecci alcuni morti di fame delinquono per pochi soldi queste le parole davvero pesanti del prefetto poi armato di silinghe cacciavite rapina la farmacia in via Strinella in municipio Pirozzolo reintegrato segretario generale il tribunale del riesame annullato la misura cautelare Cialente dice sono felice per l'amico andiamo avanti l'Aquila le poste dicono no al ritorno in centro l'ente ha risposto alla lettera del sindaco che solicita aver riuso del palazzo di Piazza Duomo di proprietà di Camillo Colella l'annuncio ha fatto infuriare Cialente una vergogna mi promisero che la sede sarebbe tornata dove era per quanto riguarda la sede centrale andiamo ad Avezzano Sulmono ostetricia batte tutti i record e tocca quota a mille parti questo per quanto riguarda Avezzano a Sulmono invece aggressione dei pitbull denunciate tre persone il sindaco di Introdacqua Terenzio Terenzio Dicenzo ha chiesto l'immediato allontanamento per il branco andiamo adesso ma a vedere insieme la città quotidiano il quotidiano della provincia di Teramo per approfondire anche qualche notizia dal territorio teramano e dunque apriamo subito il giornale andiamolo a vedere a recuperare insieme per poterlo osservare da vicino e dunque andiamo sulla pagina sulla pagina di Teramo terrorismo e protesta cortocircuito tra procura e attivisti NTT l'inchiesta per l'occupazione dell'ex OVS 12 attivisti sono in attesa del processo andiamo avanti con la lettura del giornale chiede di pignorare le auto della municipale un costruttore mai pagato per i marciapiedi di San Nicolò pretende subito 100 mila euro dal comune e questa è la proposta irrealizzabile beni non pignorabili ma le auto dei vigili continueranno a girare visto che sono beni non pignorabili perché di pubblica utilità IZF Arnolfo replica duro a caporale spregievoli attacchi personali oggi abbiamo libertà di espressione e trasparenza andiamo ancora avanti comunale si va verso un'altra proroga il sindaco le attività del cineteatro non saranno sospese dopo il 30 di novembre andiamo ancora avanti la cronaca botte a moglie e figlie arrestato un 56enne Castelnuovo vessazioni fisiche e psicologiche alle donne di casa padre di famiglia albanese finisce nei guai e sempre per quanto riguarda la violenza domestica un altro arresto per stalking insegue fin dentro la questura la moglie che vuole denunciarlo cambiamo pagina adesso passiamo allo sport e per farlo torniamo sul quotidiano il centro andiamo ad aprire subito la pagina dell'Abruzzo Sport serie B in primo piano domani al Sinigaglia la linea dura di Oddo Valotti ha sbagliato e va in panchina il tecnico rispetto agli avversari ma temo solo il Pescara Campagnaro deciderò all'ultimo se sta bene gioca ascoltiamo il tecnico del Pescara Oddo mi auguro che la squadra abbia abbia recepito la lezione nel senso che abbia capito che in generale nel calcio ma ancora di più in questa serie B i livelli sono molto simili sicuramente ci sono squadre che hanno più qualità altre che hanno meno qualità ma se mentalmente non ti metti al pari delle altre rischi di perdere con chiunque e dato che noi di qualità ne abbiamo da vendere se noi affrontiamo tutte le partite con la giusta mentalità e al pari delle altre squadre per questo intendo cattiveria agonistica corsa e quant'altro e allora sicuramente abbiamo più possibilità delle altre squadre perché la qualità che abbiamo noi non la vedo in tantissime squadre dato che la mia considerazione è quella che io temo la mia squadra e non le altre rispetto per le altre squadre ma temo soprattutto la mia squadra perché so che ha dei valori importanti però dobbiamo mettere in campo altre caratteristiche che fanno sì che tu possa fare bene e possa vincere è una squadra che ovviamente non vive un momento molto positivo perché c'è stato un cambio allenatore quando si cambia l'allenatore vuol dire che le cose non vanno benissimo viene da un pareggio in rimonta nel senso che vincevano e sono stati agguantati quindi non sta in acqua tranquilla in classifica quindi ha bisogno di fare punti e noi e noi anche e quindi sarà sarà una partita difficile che dovremo affrontare con la giusta testa e va bene adesso sono cose di spogliatoio che non sto qui sicuramente a dire però con Valotti c'è stato un altro tipo di problema che abbiamo assolutamente risolto e quindi è anche una sorta di di punizione rispetto per gli altri compagni che lui questa settimana sicuramente non avrà una maglia tutelare restiamo in serie B perché gioca anche il Lanciano Lanciano Crotone si giocherà al Guido Biondi è arrivata la proroga della proroga possiamo dire per quanto riguarda lo stadio dei Frentani che deve comunque essere adeguato ma che per il momento resterà così e continuerà ad ospitare le partite casalinghe del Lanciano Maio-Vrenna la rivalità è totale due famiglie contro dal calcio allo smaltimento dei rifiuti e la Virtus perde Ferrari per infortunio dunque questa la situazione all'interno di casa Virtus Lanciano da Versa parla di crecco potenziale titolare dobbiamo dobbiamo continuare a credere in quello che facciamo ha detto il tecnico e domani insomma con il Crotone bisognerà cercare di portare a casa i tre punti che servono per la classifica e anche per il morale adesso andiamo al derby di Lega Pro fra l'Aquila e Teramo derby della paura così lo definisce il centro il tecnico rosso-blu per Rone i punti valgono doppio Vivarini dice serve il colpaccio per recuperare il terreno perso anche per la penalizzazione due squadre che non stanno attraversando per ragioni simili ma anche diverse che non stanno attraversando un buon momento oggi alle 15 al fattore vedremo insomma che partita uscirà dal 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 fattore i precedenti l'ultimo colpaccio del diavolo è 12 anni fa per quanto riguarda i precedenti di questa partita insomma l'Aquila in vantaggio bilancio complessivo delle sfide vede in vantaggio Teramo con 13 vittorie contro 9 dell'Aquila ma le ultime prestazioni sono state a favore della squadra Aquilana andiamo a vedere anche le probabili formazioni al fattore alle 15 arbitra Pagliardini di Arezzo e dunque il Teramo che scenderà in campo molto probabilmente con Tonti tra i pali Brugaletta Caidi Altobello i tre centrali di difesa Scipioni Amadio Cenciarelli e Cecchini a centrocampo Da Silva Moreo e Petrella in attacco l'Aquila dovrebbe rispondere con Zandrini tra i pali Sanni Cosentini e Bigoni in difesa San Nomenico Triarico De Francesco Mancini e Ligorio a centrocampo De Sosa e Ceccarelli in avanti Andiamo adesso al calcio di Serie D il caso anche i tifosi all'alba allo stadio Chieti ti devi svegliare questo lo striscione apparso alle 6 del mattino all'Angelini per contestare la squadra che si stava allenando all'alba e domani trasferta vietata ai supporters del Giulianova questo per quanto riguarda la di Pallamano a uno donne il derby di Teramo mette in palio il dominio cittadino Canzio della Globo Bioapta sarà comunque una festa la brecciosa sono loro forti ma io mi tengo le mie andiamo al basket di A2 domani il derby d'Abruzzo Roseto e Chieti si ribellano al no ai tifosi in trasferta l'osservatore impedisce agli sportivi tiatini di seguire la progera al Palamagetti continua la maledizione infortuni per i biancorossi che perdono il bulgaro Lilov chiudiamo qui la rassegna stampa vi ricordo la notizia d'apertura per quanto riguarda la nostra rassegna stampa la strage a Parigi una notte di terrore e di morti nella capitale francese questo è il sito delle Figaro gli attentati a Parigi il punto della situazione al momento è almeno 126 persone morte altri circa 200 feriti in un venerdì davvero da cancellare non solo per la Francia e per Parigi ma per tutta l'Europa dove è arrivata veramente la guerra noi ci fermiamo qui grazie per aver seguito questa rassegna stampa mattino 6 torna lunedì puntuale alle ore 7 poi vi ricordo anche i prossimi appuntamenti con la nostra informazione alle 14 alle 19 e ancora alle 15 attorno alle 15 qualche minuto prima diretta stadio per seguire il derby di Lega Pro tra l'Aquila e Teramo grazie ancora e buona giornata e buon weekend e buon weekend grazie a tutti